è un altro incendio a via delle arti ormai questa zona di fiumicino così come anche su via geminiano montanari brucia spessissimo qualche mese fa da quella parte dove vedete tutto tutto annerito anche c'è stato un incendio e adesso tocca qui praticamente stiamo tra via delle arti e la strada che porta alla stazione di nuova fiera di roma brucia il canneto ho provveduto a chiamare i vigili del fuoco i quali erano già stati allestati si vede da qualche persona che abita qui perché siamo praticamente alle spalle delle scuole medie e il quartiere pleiadi questa è la zona interessata adesso il fumo cresce sempre di più perché queste sono zone praticamente ricche di arbusti canneti e quant'altro adesso arriveranno i soccorsi